e' avvicinato ha fatto un attacco da guanto no, frate, la dovevi fare la dovevi sciolto dai, shieldati guarda che figli di puttana con la spara, guarda, guarda, guarda che figli di puttana con la spara, guarda prendi l'altro guarda 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 c'è un po' di fronte Scegliati un po' che mi piace Battini sopra Lui c'ha anche lui che è un piramide Guardi un kit finisce Devi fargli sparare quanto colpire i massi Lo so Magari li ha anche finisce Alla fine il massimo neanche te ne da tantissimo Valle No 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 Chiudila chiudila Vatti vatti avanti Qui ti può Grazie a tutti